Ciao, io sono Andrea, oggi andiamo a vedere quali sono le migliori risorse gratuite, migliori secondo me chiaramente, per poter studiare anatomia, che tu sia un principiante e un esperto. Quindi quello che vediamo oggi è tutta roba che si trova su internet. Io personalmente uso video su YouTube, uso pagine Instagram e tutta una serie di altre risorse che poi vediamo alla fine del video, perché sono un bravo YouTuber, hai visto? Purtroppo tutte le risorse che vedremo saranno in inglese e il motivo è che sono quelle che uso io, quindi vi sto facendo vedere quello che per me funziona, quello che uso io regolarmente, e quello che uso in inglese, per cui... Comunque se proprio non sai una parola d'inglese, in ogni caso qua in mezzo ci sono delle risorse che non richiedono neanche il saper leggere, quindi potrai trovare qualcosa di utile in ogni caso. Un'altra cosa che non c'è in questo video, perché sono a pagamento, sono i libri. Però i libri sono importantissimi, sono un sacco utili, quindi sicuramente ci farò un altro video e probabilmente anche a breve. Comunque, iniziamo dai canali su YouTube, che è praticamente dove ho iniziato a imparare a disegnare e dove continuo a imparare tutt'oggi. Cioè, YouTube è veramente una delle mie principali fonti di informazione in generale. Cioè, è veramente incredibile quante informazioni puoi racimolare semplicemente guardando video su YouTube. Iniziamo col messia dell'anatomia, cioè Proko. Pazzesco, eh? Non ve lo aspettavate mai, Proko. Non so se c'è qualcuno che non lo conosca. Secondo me è tipo la risorsa di anatomia più utilizzata al mondo, su YouTube quantomeno. Perché effettivamente il canale di Proko è una miniera d'oro. Ma, a parte l'anatomia, c'ha un sacco di video utilissimi su vari aspetti del disegno. Anche interviste ad artisti professionisti che sono estremamente utili. Ma secondo me il valore più grosso che trovi nel canale di Proko sono le due playlist, Figure Drawing e Anatomy Drawing, da seguire in quest'ordine. Che sono praticamente una demo del suo corso, perché lui ha un corso a pagamento. Però ha anche distillato tutti questi video via gratuita, che sono anche da soli sufficienti per farsi un'educazione anatomica. Quindi studi prima la figura umana con la prima playlist di Figure Drawing e poi ci applichi l'anatomia sopra con il corso di anatomia. È un po' tecnica, cioè nel senso è abbastanza tecnico, quindi potrebbe stancare, tipo spesso mi sono trovato a fermarmi mentre seguivo le lezioni. Però ci ritorni sempre alla fine, perché dà informazioni utili, direttamente mirate per gli artisti, molto ben digeribili, video leggeri. Veramente è una risorsa spaventosa. Se dovessi eliminare tutti gli altri canali su YouTube di anatomia, tranne uno, terrai questo probabilmente. Visto che affronta tutto, potrebbe seguirlo anche un principiante, però io probabilmente non lo consiglierei a un principiante, perché appunto l'approccio è molto serio, quindi lui punta a farti imparare i fondamentali. Cioè impari quello che serve per, sul lungo termine, imparare per bene l'anatomia. Però capito, dopo dieci giorni che fai i disegni che ti propone Progo, non hai mai ottenuto un bel disegno. Quindi ti fa mancare quelle piccole vittorie iniziali che ti servono per farti aumentare un po' l'autostima, per farti capire, cavolo, ce la posso fare a disegnare? O comunque è divertente disegnare, perché lì è tutta una lezione, come se stessi, che ne so, all'università. Un altro canale ottimo è quello di David Finch, che è un fumettista palese professionista con un sacco di esperienza. I suoi tutorial sono molto diversi da quelli di Progo, sono molto meno tecnici e più pratici, diciamo, perché lui ti spiega le cose nel frattempo che disegna un sacco di pose. Quindi tu praticamente puoi imparare quello che sta dicendo, vedendolo anche sul momento, in maniera meno scolastica, in maniera più, appunto, applicata. E quindi dai suoi video puoi non solo imparare la teoria, ma puoi anche proprio prendere reference, cioè anche solo copiando i suoi disegni puoi imparare un sacco di cose. E i suoi disegni sono veramente belli, cioè sono ben proporzionati, l'anatomia è fantastica e lui è proprio bravo. Dopodiché abbiamo un'altra sorpresona, cioè Marc Brunet, che è un canale che praticamente conoscono tutti, e lui è un insegnante di disegno da anni, ha lavorato alla Blizzard, alla Blizzard, alla Blizzard, quindi è molto bravo soprattutto a fare rendering, paesaggi, però è bravo pure nell'anatomia, quindi è praticamente a tutto tondo, e i suoi video sono un sacco utili, condivide un sacco di tips in generale sul disegno, però anche sull'anatomia in particolare. Direi che bisogna stare attenti sul suo canale, perché oltre ad essere un bravo artista, è pure un ottimo youtuber, quindi ti fa rimbalzare tantissimo tra un video e l'altro, e il rischio è che perdi ore e ore a guardare i suoi video. Comunque ogni volta che voglio imparare qualcosa, vado sempre a guardarmi qualche suo video, perché alla fine qualche consiglio utile lo trovo sempre. E poi c'è anche il fatto che mi piacciono i suoi disegni, cioè nel senso il suo stile non mi fa impazzire, non è molto nelle mie corde, però il tipo di anatomia che disegna è molto chiaro, le linee sono molto pulite, ed è proprio comprensibile, cioè ti fa capire meglio come sono state incastrate le forme anatomiche l'una con l'altra, quindi da un punto di vista proprio puramente didattico, è davvero efficace secondo me, infatti vi consiglio anche di andare a vedere il suo Instagram, non lo elencherò sotto, ve lo dico adesso, però sul suo Instagram ci sono un sacco di suoi disegni, che anche semplicemente guardandole ti fanno capire un sacco di scorciatoie, o un sacco di semplificazioni anatomiche molto utili. Devo dire, se devo proprio cercare un pelo nell'uovo, che la sua anatomia secondo me è molto buona, ma non è eccellente, e non lo dico con un senso di superiorità, cioè vorrei sapere disegnare come lui, assolutamente, però ci sta in giro gente come Elisa, o come T.B. Choi, oppure Arrucelli, che sono tipo dieci spanne sopra, quindi è utile per imparare, però proprio come reference pura, secondo me c'è di meglio. L'ultimo canale che vi faccio vedere è un canale un po' meno convenzionale, perché non è il classico faccio i tutorial, è comunque molto seguito, quindi probabilmente lo conoscerete, però non è così scontato, ed è il canale di Ergo Josh. Il canale di Ergo Josh è un po' diverso, cioè lui fa diversi tutorial, ne ha fatti diversi, in particolare c'è un video meraviglioso su come imparare l'anatomia. A me il suo canale piace tantissimo, infatti è una delle principali fonti di ispirazione per il mio, perché quello che ha fatto lui è praticamente condividere il suo percorso mentre apprendeva l'anatomia. Lui ha passato circa due anni partendo da un livello abbastanza scarso per arrivare in poco tempo a livelli veramente alti, condividendo sia la maniera in cui studia, quindi farti capire più o meno in che maniera si stava muovendo, ma anche condividendoti pensieri, riflessioni e cose che l'hanno aiutato nel tempo per continuare ad andare avanti. E per me è veramente fantastico, è super interessante e super di ispirazione. Ok, passiamo adesso invece alle pagine Instagram. Allora, non puoi ovviamente imparare tutto dalle pagine Instagram, nessuna pagina Instagram ti darà una conoscenza anatomica completa, come potrebbe fare ad esempio un canale YouTube invece o un libro. Però secondo me quello per cui è utile Instagram invece sono tipo tips and tricks. Non è che quando mi metto a studiare anatomia penso, oh, vediamo che c'è sta su Instagram e metto là a scorrere le immagini e copio quelle. Però il processo è inverso, sto là sul telefono a guardare a scorrere il telefono e a una certa mi capita un'immagine con qualche trucchetto. Intanto me lo leggo e me lo memorizzo, così un po' a gratis. E poi magari se sono proprio fortunato mi viene voglia di mettermi a disegnare, quindi mi alzo dal divano, smetto di usare il telefono e mi metto effettivamente a lavorare. Allora, il primo che vi consiglio è Tom Fox Draws. Lui all'inizio postava semplicemente dei manichini, quindi forme semplificate e manichinizzate del corpo umano e a me piacevano da morire. Cioè, i suoi manichini a me fanno impazzire perché sono ben disegnati e soprattutto ben proporzionati. Adesso invece si è evoluto, diciamo, il suo canale su Instagram, che non è un canale ma è una pagina, e adesso posta delle riflessioni o comunque dei tips derivanti dal suo studio dell'anatomia. E oltre all'effettivo consiglio che è quasi sempre utile, cioè sono sempre buone informazioni, i suoi disegni sono l'informazione più importante, secondo me, perché le sue semplificazioni del corpo umano sono veramente fantastiche, sono dei più diversi tipi, ti fanno imparare un sacco di scorciatoie e a me dà la sensazione di poter riuscire a disegnare molto più facilmente il corpo umano, di base. Non so come fa, però me la dà. Mi piacciono così tanto i suoi manichini che avevo preso il suo corso su domestica perché ne ha uno, però non ve lo consiglio tanto perché secondo me è un po' troppo semplicistico. Poi abbiamo Will Weston Studio, questo qualcuno forse l'avrà già sentito perché è un insegnante di disegno, ha proprio un corso di anatomia e il suo profilo è estremamente caotico, si vede che non è un content creator, però in compenso è un insegnante bravissimo. Quindi quello che lui posta, cioè se scorrete e avete un po' di pazienza, troverete certi post che sono estratti dal suo corso di anatomia e che sono semplificazioni del corpo umano, tutte belle diagrammate con i colori, che praticamente basta guardare per trovare un sacco di trucchetti e trovare un sacco di modi interessanti per semplificare il corpo umano. Io ma non posso dirlo perché non l'ho seguito, però guardando ste immagini, secondo me il suo corso è tanta roba. Al terzo posto, sempre arbitrario perché non è una classifica, abbiamo Manga Materials, che è una pagina molto più ordinata rispetto a Will Weston e praticamente i suoi post hanno sempre lo stesso format, quindi sono un errore comune che viene commesso nel disegnare all'anatomia, ti fa vedere la parte sbagliata e ti fa vedere come correggerlo. Quindi secondo me è molto semplice, è dritto al punto e sono praticamente sempre utili i consigli. Non so perché ogni tanto posta qualche foto random di cielo, piante... Dopodiché c'è, questa penso che non la conosca nessuno, Tago1704 ed è un'altra pagina di tips. Questa molto ordinata, molto ben fatta, peccato che è tipo in coreano, quindi non si capisce niente, però per fortuna ci sta sempre sotto ogni post una tizia che non so chi la paga però commenta traducendo quello che c'è scritto nel post, quindi alla fine si capisce cosa sta succedendo e i tips sono praticamente sempre utili, quindi ottima pagina. L'ultima pagina che vi consiglio è Anatomy Source. Diciamo che questa è praticamente un jolly, perché è la classica pagina che fa da agglomerato di un sacco di fonti diverse, quindi prendono da pagina Instagram, canali YouTube, modelli 3D o modelli anatomici e ficcano tutto insieme. Secondo me questa pagina, a parte che fa una bella selezione, ma è ottima come trampolino di lancio per conoscere tante fonti diverse, magari trovi quelle che si adattano di più alle tue esigenze. Ok, adesso siamo arrivati alla parte delle cose un po' più succose, particolari e partiamo subito con Sketchfab. Sketchfab è un sito di modelli 3D, niente di più, niente di meno. I modelli 3D sono una delle cose più utili in assoluto per poter disegnare. Tu vai là e cerchi praticamente, che ne so, Torso Anatomy o Torso Simplification e ti trova una serie di modelli che puoi usare per andarti a studiare la parte del corpo che ti interessa o il corpo umano completo da ogni angolazione. Ci stanno anche cose tipo Asaro Head oppure altre semplificazioni del teschio, della testa, insomma, utilissimo. Unica cosa, attenzione, perché non è che i modelli sono controllati o fatti da professionisti. C'è la gente a caso che va là e li carica, quindi attenzione a quello che scegliete perché potreste copiare dell'anatomia sbagliata. Io in descrizione vi lascio alcuni dei miei modelli preferiti che secondo me sono veramente fantastici e che comunque ho usato nel tempo. La nostra seconda risorsa particolare è Pose Maniacs che è nuovo anche per me in realtà e sarebbe praticamente un gigantesco archivio di manichini anatomici in pose dinamiche. E la cosa bella di questi manichini è che sono anche loro modelli 3D, quindi praticamente puoi andare a ruotarteli da qualsiasi angolazione possibile. Ci sono utilissimi perché di solito quando studi anatomia la studi da diagrammi, quindi c'è che ne so la classica posa in verticale con le braccia aperte e la muscolatura nelle solite pose classiche. Quello che è difficile da trovare sono appunto muscoli in movimento, muscoli in pose diverse. Ora, se queste pose non ti piacciono ti basta creartelo da solo. E infatti la prossima risorsa che tiriamo fuori è Magic Poser. Secondo me Magic Poser è la migliore app in circolazione per creare delle pose. Cioè sia in versione sia per telefono che per PC. Quella per il telefono è più sviluppata però anche quella per PC va benissimo. Non puoi salvare i modelli purtroppo però il fatto di questa applicazione è che è comodissima cioè ha un sistema di giunture che ti permette di muovere il manichino con una facilità disarmante. Ci metti un pochetto ad abituarti un'oretta quindi niente in pratica. Una volta che ci hai fatto la mano è facilissimo creare delle pose e crearle pure belle. È facilissimo muovere le giunture è facilissimo mettere seduto dal manichino metterlo in piedi proprio spostarlo cioè ha una fluidità che altre applicazioni non hanno perché muovono i singoli arti non si muovono organicamente tutti insieme. Poi hai delle pose già impostate nel catalogo hai delle pose già impostate anche per le mani comunque puoi muovere le dita singolarmente puoi muovere la luce cioè puoi impostare la direzione e l'intensità della luce questa cosa è utilissima perché ti fa imparare per bene le forme 3D del corpo e anche come si proiettano le ombre che quindi è utilissimo sia a fine di studio ma anche se stai facendo effettivamente un disegno cioè hai fatto un disegno e ti domandi dove dovrei mettere delle ombre anche per capire semplicemente a livello di design dov'è che starebbero bene vai a prenderti e farti la stessa posa su questo programma e imposti la luce in vari punti diversi e capisci quale ti piace di più. L'unica cosa che mi sento di sottolineare non in particolare per quest'app ma in generale per tutte le applicazioni che sfruttano manichini e modelli 3D è di stare attenti a non creare pose troppo statiche perché sia in fase di messa in posa del modello sia in fase di disegno si rischia di appunto rendere il disegno troppo statico perché quando fai la posa devi comunque conoscere gli elementi che rendono la posa dinamica quindi tipo contrapposto e gesture e la stessa cosa pure in fase di disegno specialmente se sai se conosci poco l'anatomia perché tendi ad affidarti troppo al modello che è sostanzialmente un pezzo di legno quindi non lasci spazio a linee curve e esagerazioni anatomiche che renderebbero la posa molto più dinamica e il tuo disegno molto più vivo quindi parlando proprio di pose dinamiche se non vuoi creare dei pezzi di legno puoi esercitarti su questo sito qui che si chiama Line of Action quello che fai su questo sito è creare delle sessioni di allenamento mirate per studiare proprio questo il dinamismo dei corpi il movimento quindi la gesture e cioè dire che studiare gesture ti migliora le pose per renderle meno legnose è praticamente un eufemismo cioè studiare la gesture è quello che veramente ti rende le pose una cifra più belle cioè rende i tuoi disegni molto più vivi si vede proprio la differenza tra un artista che sa fare bene la gesture e uno che non la sa fare è un esercizio fondamentale che si fa costantemente per lo studio di tutta l'anatomia infatti facci caso sta nella playlist di Progo figure drawing all'inizio e lui te lo dice devi studiarlo per sempre ed è verissima questa cosa ma non è lo scopo di questo video invogliarti a fare questo esercizio lo scopo di questo video è semplicemente dirti che esiste che è gratis e che è parte integrante dello studio anatomico quindi non è una cosa diversa non è una cosa strana io lo uso da un sacco mi ci trovo benissimo e anche se all'inizio sembra che stai facendo cose strane poi i risultati si vedono poi ovviamente l'ultima risorsa gratuita chiaramente la più importante di tutte è questo canale è solamente in fase di allestimento no seriamente pian piano questo canale si riempirà sempre di più di contenuti spero di valore e molti verteranno sull'anatomia perché alla fine uno dei miei obiettivi principali è impararmela per bene sta cavolo di anatomia detto ciò fatemi sapere dove voi studiate anatomia se la studiate fatemi sapere se già conoscevate queste cose oppure se avete qualche risorsa nuova magica e spettacolare di cui io non sono a conoscenza in tal caso fatemelo sapere assolutamente e basta ciao